Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio, siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ovviamente oggi parliamo del Behemoth Critical Threat con difficoltà X1 ed X2 ovviamente sono due difficoltà che mi rendo conto ormai per la maggior parte delle persone essere insignificanti però ovviamente ci tengo a fare comunque delle guide complete perché sapete che il mio canale tratta Ever Crisis e quindi voglio trattarlo al meglio delle mie possibilità detto ciò vi faccio anche notare il fatto che questi stage essendo comunque di difficoltà X sono ben diversi da quelli che sono stati rilasciati per Ramù e con questo cosa voglio dire, non voglio attaccare nessuno, non voglio creare discussioni però quando in un gioco vengono imposte delle difficoltà e vengono comunque chiamate e definite in un modo il range di difficoltà di quella stessa deve essere uguale per tutti o deve essere comunque uguale per tutti gli eventi in cui viene proposta ora in questo caso la X1 e la X2 sono comunque due stage che in un evento come questo temporaneo sono molto più facili e molto più affrontabili per utilizzare il termine rispetto a quelle che abbiamo visto soprattutto con le summon c'è chi ovviamente giustifica tra virgolette questa cosa dicendo che essendo comunque contenuti permanenti hanno reso le summon più difficili proprio per permetterti di godertele o comunque di giocartele durante il tempo però ovviamente questa cosa non deve essere una giustificazione perché ovviamente all'interno del gioco loro potrebbero tranquillamente creare anche le crush delle summon cosa che sicuramente succederà in futuro perché sono sicuro che comunque arriveranno anche le crush per le summon però se tu comunque sia vuoi centellinare il contenuto fallo in modo diverso perché io giocatore che leggo difficoltà X ho in mente una tipologia di difficoltà mentre invece poi quello che mi si presenta davanti è un'altra roba totalmente diversa quindi ci tengo comunque a fare questo piccolo ragionamento fare questa piccola postilla prima di cominciare il video solo perché mi sembrava necessario detto ciò X1 ed X2 difficoltà veramente imbarazzante facilissima è anche vero che io ho voluto utilizzare Sephiroth dato che l'ho pullato ma vi posso garantire che con un team non elementale o comunque un team costruito per bloccare il vostro avversario il behemoth si può gestire facilmente si può gestire veramente veramente facilmente il team che ho utilizzato io sia per la X1 che per la X2 è questo qua ho utilizzato comunque sia anche come potete notare uno zac non elementale che mi ha fatto praticamente da DPS e debuffer in contemporanea mentre invece poi ho utilizzato Sephiroth come DPS principale e Matt che ovviamente qua mi fa da supporto ed è estremamente perfetto estremamente perfetto perché Matt per l'appunto ha la Centipede che mi consente di curare e aumentare la difesa fisica contemporaneamente e poi la seconda arma che con l'attacco X-Shot la Sleek Beetle che con l'attacco X-Shot mi permette di ridurre addirittura di tre attacche l'attacco fisico del mio avversario è vero che il behemoth effettua sia attacchi fisici che attacchi magici ma gli attacchi fisici sono più frequenti e sono anche più fastidiosi quindi è vero che io potrei tranquillamente utilizzare un siringone con Matt per avere la difesa fisica e la difesa magica sempre a palla però sinceramente parlando non ne ho avuto bisogno anche perché adesso con Matt ho una capacità di cura estremamente elevata quindi riesco comunque a recuperare in fretta gli HP persi e riesco soprattutto a difendermi con gli attacchi fisici che sono quelli veramente fastidiosi detto ciò Sephiroth Sephiroth in questo caso abbiamo la skin nuova Arcanum Terra boostare maggiormente il mio attacco magico e poi come arma secondaria l'arma nuova terra la Blue Brumble che ovviamente ho voluto mettere come arma secondaria perché in questo modo il mio boost di attacco magico viene decisamente amplificato grazie alla Protector's Blade infatti come potete vedere abbiamo un boost magico comunque di livello 7 un boost terra che ho preferito ridurre leggermente in funzione del boost ability magico è una cosa che in realtà non si dovrebbe fare perché quando fate un personaggio elementale dovete sempre boostare come prima regola l'attacco magico e poi l'attacco elementale l'abilità della potenza magica va potenziata soltanto dopo però in questo caso per evitare che Sephiroth non maxasse il suo attacco magico ho dovuto fare un piccolo sacrificio al boost terra e quindi farlo scendere dal livello 5 al livello 4 che alla fine ci può anche stare come ragionamento 10.000 HP quasi 11.000 HP che tutto sommato vanno bene sia per la X1 che per la X2 e poi 5.129 di attacco magico che è una cifra assolutamente ottima non abbiamo summon di terra quindi ho messo comunque la sua limit numero 2 che mi consente comunque di incrementare attacco fisico e magico nell'eventualità ci dovesse essere appunto bisogno ma ovviamente non ce ne sarà bisogno e poi tutte le materie che mi servono solo ed esclusivamente per incrementare le stats sub weapon ovviamente tutto ciò che mi dà boost magico terra HP terra e poi attacco magico e boost di ability magica perché? Perché ovviamente non potevo maxare l'attacco magico con le mie armi terra visto che ne ho poche e tra l'altro sono anche deboli di overboost a parte la Jiggy Femme di Glenn e allora ho optato per ridurre leggermente il boost terra per aumentare di gran lunga il boost di abilità magica e quindi questo è il mio Sephiroth che comunque sia riesce a giocare benissimo successivamente abbiamo MET MET che si presenta con men 12.765 HP e 3.000 punti in healing quindi sono le cifre che a me interessavano di più prima arma Centipede, Centipede per meglio dire e la seconda arma la Sleek Beetle proprio per abbassare l'attacco fisico del nostro Behemoth ovviamente abbiamo anche la difesa fisica aumentata grazie appunto alla Centipede che mi cura in contemporanea ho messo un Protect lì semplicemente solo perché aveva le statistiche più alte che mi servivano e poi materie al solito per incrementare le stats abbiamo anche la limit con il Giantic Wall ma ovviamente non avremo modo di utilizzarla e la skin ormai praticamente fissa quella del Dottore che è una delle skin se non la skin migliore praticamente per MET e forse una tra le skin migliori del gioco per quanto riguarda invece le armi abbiamo al solito setup con buff debuff in prima linea solo che questa volta ho messo due Healing e un HP in modo tale da aumentarmi un po' la vita e poi aumentare ancora le capacità di cura del mio MET che raggiungono livelli veramente eccezionali per quanto riguarda ovviamente le Ability abbiamo 6 per quanto riguarda gli HP 9 per quanto riguarda Healing che siamo praticamente quasi al livello massimo e ci avviciniamo veramente di un pelo a toccare il livello massimo che nel momento in cui avrò qualche overboost in più anzi forse portandola al 120 portandola al 120 riuscirei ad arrivare al 100% di boost esatto livello 10 di overboost per quanto riguarda Healing e quindi ovviamente non l'ho fatta così la Challenge però ho la possibilità comunque di poter aumentare tantissimo il boost Healing arrivando a 3160 ovviamente va bene così il personaggio di MET perché subentra in questo caso il mio Zack ho utilizzato uno Zack non elementale al posto di una Yuffie o comunque di una Lucia stessa che comunque avrei potuto utilizzare semplicemente perché le armi di Lucia le ho date a Sephiroth per ovviamente boostare le sue stats Lucia sarebbe rimasta praticamente senza armi completamente inutile e quindi ho detto facciamo una cosa metto Zack in modo tale che mettendo Zack posso giocarlo con il setup non elementale e praticamente fare danni debuffare e al tempo stesso essere competitivo perché i debuff dureranno più a lungo grazie appunto alla skin che ho messo con Zack infatti abbiamo 12.310 di HP 5.070 in attacco fisico e quindi sono cifre molto 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 buone infatti abbiamo boost fisico portato al massimo e boost di abilità fisica anche portata al massimo estensione del debuff data dalla skin e per quanto riguarda invece le materie sono tutte materie che aumentano le stats e come sub weapon ho pompato tutto praticamente sull'abilità fisica e l'attacco fisico HP e poi ho messo l'arma di Cloud come terzo slot dato che non mi serviva pompare nient'altro ho detto aumentiamo l'attacco grazie appunto all'arma di Cloud messa come sub weapon che con l'attacco boost all mi permette di raggiungere i 5000 punti di attacco detto questo non c'è altro da dire il team è questo ed è un team che lavora benissimo sia per ridurre l'attacco fisico sia per ridurre l'attacco magico con la Twin Clean Star per fare danni con Zack fare danni con Sephiroth e avere delle cure a portata di mano sempre con Matt detto ciò vi lascio alle run che durano veramente pochissimo spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti